Gesù 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 Cari amici, allora prendiamo il nostro libro e fidati di Gesù e poi col sottotitolo della Madonna le sue bellissime parole confortatrici figli miei, in momenti di confusione e rinunce dovete solo cercare il volto di mio figlio allora, amici, oggi il tema che sviluppiamo è che Gesù ti guarisce cioè, Gesù è un medico che fa la diagnosi e quando fa la diagnosi della tua malattia diciamo così mette tutto in chiaro però questa messa in chiaro per cui tu non devi aver paura di mostrare Gesù tutte le tue piaghe e tutte le tue ferite e tutti i tuoi tumori diciamo, spirituali non devi aver paura perché lui poi ha la potenza della grazia la potenza di guarire tutte le tue malattie quindi quello che tieni nascosto Gesù non può guarirtelo ma se tu mostri tutto Gesù può guarirtelo esattamente quando come quando un medico ovviamente ti visita e poi se hai il panorama esatto della situazione ti dà le medicine o fa gli interventi necessari quindi questo vale anche per l'anima cari amici l'anima è insozzata dal peccato indebolita dal peccato si ammala anche l'anima come ha detto la Madonna molte anime si ammalano e vanno verso la morte spirituale cioè l'anima muore nel senso non nel senso che si distrugge ma nel senso che rimane imprigionata dal male e Gesù è quello che ci libera con la potenza della sua grazia siamo a pagina 105 leggiamo e commentiamo il perdono dei peccati è una grazia inestimabile che libera la vita dal potere delle tenebre e la introduce nel reno della luce quindi veramente è una nuova nascita è una nuova nascita la potenza della grazia che che libera dal male il peccatore e ottiene il perdono di Dio Gesù spezza le catene con le quali il demonio ti teneva schiavo e ti restituisce la libertà dei figli di Dio lungo il cammino della vita hai ricominciato a risplendere il sole e tu avanzi con gli occhi fissi alla meta dell'eternità Gesù ti precede come un buon pastore che conduce il suo greggio proteggendoti dando tutte le grazie di cui hai bisogno cioè veramente la conversione con la confessione è una vera liberazione col peccato tu sei schiavo del demonio sei incatenato dal male sei sua preda cioè come dice la Madonna con gli inganni vi cattura e vi tiene con sé e non puoi liberarti da solo se non interviene Dio con la sua grazia che ti risveglia la coscienza che poi ti spinge verso la liberazione interiore che si concretizza nella confessione diventi una nuova creatura e inizi una vita nuova che è la vita della grazia la vita cristiana e cari amici questo è quella trasformazione straordinaria attraverso la quale uno riprende in mano la vita cioè la riprende in mano nel senso che la sua libertà e non è più schiava del male ma diventa una libertà sorretta dall'amore e quindi una libertà per fare il bene e per produrre il bene e con questa nuova corso della vita cari amici l'amicizia di Gesù diventa la gioia la forza che ti sostengono come è vero e come si sperimenta cioè veramente chi ritorna a Dio con la conversione sia pure nella salita dolorosa della purificazione prima la pace poi addirittura la gioia la gioia di essere il tempio di Dio di essere amici di Dio ti renderai conto dopo la conversione che il male anche quando è perdonato però lascia dietro di sé delle ferite dolorose cioè c'è il tempo della guarigione queste ferite hanno bisogno di essere curate come il buon samaritano che ti ha trovato lungo la strada derubato e percosso nel ladrone infernale Gesù ti ha raccolto e ha provveduto perché tu fossi curato e rimesso in grado di camminare che lo fa con la sua grazia e con i sacramenti della Chiesa Gesù non si limita a perdonare i peccati che lui stesso ha espiato al tuo posto e per tuo amore ma con pazienza divina cura ad una ad una le piaghe sanguinanti che sono rimaste come quando fai un'operazione ma rimangono le ferite e che continuano a far male Gesù è un medico pieno di sollecitudine che accompagna il malato fino alla completa guarigione non devi illuderti che dopo il perdono di Gesù la salute della tua anima sia completamente ristabilita cari amici è come quando noi subiamo un'operazione chirurgica supponiamo la gamba si rompe l'operazione la rimette diciamo la rimette a posto sana la frattura e poi però la guarigione passa qualche mese ora per l'anima non si sa dipende anche dalla buona volontà ma certamente c'è un periodo in cui bisogna recuperare la guarigione è per quello cari amici che i convertiti non devono fare molte propaganda di se stessi non devono subito testimoniare la conversione e scrivere articoli andare qua andare là specialmente se sono convertiti importanti perché la conversione è lungo cammino e guardate che San Paolo dopo la sua fulminante conversione aveva incominciato a predicare ma Dio non era d'accordo l'ha mandato per tre anni nel deserto di Arabia solo a meditare e a rafforzarsi dopo l'ha chiamato ad essere il suo apostolo i più grandi degli apostoli sicuramente come fatiche e viaggi che ha fatto quindi cari amici non dimentichiamo che dopo la conversione c'è il tempo della guarigione che richiede una grande applicazione non devi illuderti che dopo il perdono di Gesù la salute della tua anima sia completamente ristabilita anche nel cammino spirituale c'è il tempo della convalescenza ed è com'è importante cari amici sapere queste cose e non esporsi finché non sia la forza di affrontare il mondo quindi in questo tempo di convalescenza le devastazioni procurate dal peccato vengono pian piano medicate e le forze ripristinate c'è la battaglia contro il male è una battaglia furibonda perché il demonio non cede come dice il Vangelo quando è stato cacciato va a cercare altri spiriti peggio di lui e riparte all'assalto l'esperienza ti ha insegnato che non si compie impunemente il peccato senza pagarne le conseguenze la sapienza di Dio ha stabilito le cose in modo tale che l'uomo sia orientato al bene e compiendolo realisi se stesso e si senta felice cioè una volta che si è incamminato sulla via del bene pian piano il tuo libero arbitrio che era fiacco che si era indebolito che era incapace di fare il bene dopo la conversione e dopo il tempo della convalescenza nel quale fai il bene pian piano si rafforza avrà ancora delle sconfitte ma sarà l'umiltà di rialzarsi e arriva un momento in cui diciamo si stabilizza nella grazia cioè riesce a vivere senza fare peccati mortali e il cammino spirituale è così cari amici è un po' come la guarigione fisica dunque cari amici il peccato è un veneno dal quale poi per riaversi occorre tutto il tempo necessario quindi certamente la confessione generale dopo tanti anni è un fatto enorme perché Sadr l'ha cacciato dal cuore e Dio viene nel cuore però bisogna consolidare questa conquista attraverso un cammino di purificazione che se viene condotto avanti con decisione poi c'è la stabilità del bene e c'è anche una gioia che non ti lascia più il peccato caro amico è il più terribile dei fragelli che colpiscono l'umanità per colpa propria è una realtà che possono vedere tutti quelli che non sono accecati perché quelli che sono accecati magari loro chiamano se stessi svegliati ma sono accecati non vedono il male non vedono se stessi nella loro realtà di persone che stanno per essere ingliottiti dalla palude del male ogni uomo dopo che ha avuto la grazia di incontrare Gesù è in grado di aprire gli occhi della sua vita e vedere i danni che il peccato ha provocato quindi quando guardi indietro dopo la conversione guardi indietro vedi veramente il male che hai fatto nelle sue dimensioni vere ma allora quando lo facevi non te ne rendevi conto e questo può essere diciamo un motivo un attenuante per così dire il peccato distrugge la bellezza dalla vita e degrada le persone rendendo le schiame delle passioni più abovinevoli come ha detto la Madonna il peccato vi rende simile a Satana ne patisce tutto l'uomo l'anima e il corpo e persino l'ambiente nel quale vive cioè noi infestiamo l'ambiente anche coi nostri vizi coi nostri peccati il perdono di Gesù ti libra dal veleno ma non ti sana subito dalle sue forneste conseguenze se non tu porti avanti con tutti i mezzi che hai a disposizione la confessione, la preghiera, la comunione un cammino paziente di guarigione la luce della sua grazia caro amico ti ha guarito la vista in modo tale che tu possa vedere come eri ridotto e su quale strada devi camminare ti mostra l'illusione del nemico e la strada lungo la quale voleva portarti alla rovina cioè dopo che uno è entrato nella luce di Cristo vede anche gli ingali del demonio e le sue tentazioni poi per quanto riguarda la tentazione il momento più importante è quando uno si rende conto che è una tentazione cioè quando tu sai che lì in quel posto lì c'è una vipera stai alla larga per così dire non è che vai lì a raccogliere il fungo senza guardare bene quindi cari amici ora dal tuo occhio sono capito le squame che ti impediscono di vedere ti rendi conto della tua miseria ma anche della sua misericordia cioè sicuramente con la confessione generale con la conversione cadute le squame degli occhi vedi il bene da fare e vedi nella sua realtà il male che hai fatto e vedi anche meglio l'insidio del demonio quindi non brancoli più nel buio e non ti raggiri più allo sbando nei labirinti senza via di uscita cioè con la conversione sei entrato nella luce della verità e cammini sulla via della salvezza devi solo continuare con perseveranza dinanzi a te si apre una strada che ti conduce alla meta quella del paradiso con gli indicatori che rendono sicuro il cammino gli indicatori di strada sulla via della salvezza sono i dieci comandamenti come ci ha spiegato la regina della pace la luce del discernimento che è importantissima quello che sa discernere fra il bene e il male ti consente appunto di discendere fra il bene e il male e di scoprire le insidie del nemico una volta le insidie del nemico sono pericolose finché non le scopri se tu sai che lì c'è una tagliola giri a largo se tu sai che frequentare quel luogo o quella persona potrebbe essere per te una trappola e allora giri a largo cari amico quindi impari a muoverti con sicurezza nella foresta intricata della vita popolata da insidie mortali perché è così siamo in un mondo cari amici che è tutta una tentazione poi l'abbiamo anche in casa con i mass media anche tu come il cieco nato riacquisti la vista pian piano fino a diventare un punto di riferimento per quelli che sono allo sbando ma questo viene dopo quando sei più forte quando cammini da solo non hai più bisogno capito? è così cari amici si arriva a diventare maestri credibili attraverso un lungo cammino è così cioè l'uomo si forma pian piano le carriere furgoranti sono ingannevoli cari amici a meno a livello esistenziale poi magari a livello conoscitivo può anche darsi quindi man mano che vai avanti la luce della fede ti rende sempre più luminoso e dall'occhio fumigante puoi diventare una fiaccola che illumina tutta la casa questa è la guarigione degli occhi ma insieme agli occhi Gesù pian piano guarisce anche il cuore infatti è dal cuore dell'uomo che esce il male e che lo inquina ciò che esce dall'uomo questo sì che contamina l'uomo dice Gesù dal di dentro infatti cioè dal cuore degli uomini come abbiamo già citato precedentemente però è sempre bene rileggere questo passaggio del Vangelo di Marco dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive cioè le fornicazioni i furti gli omicidi gli adulteri le cupidice le malvagità l'inganno l'impudicizia l'invidia la calunnia la superbia la stoltezza questa è una lingua che ha fatto Gesù ci conosce bene tutte queste cose cattive dice Gesù vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo allora ci sono delle radici del male c'è la concupiscenza che è un retaggio del peccato originale che non è male ma spinge al male e va guarita con combattimento spirituale con la buona volontà e l'aiuto della grazia quindi cari amici non c'è dubbio che il peccato di Gesù ha tolto la sporcizza dal cuore ma le radici delle passioni non sono ancora del tutto morte Caterina da sede dice è un culto tagliare l'erba infestante è un culto che ricresce di nuovo però e se tu vuoi che non ricresca devi strappare via le radici quindi ricordati che tu consacramento della confessione non hai ancora strappato le radici del male il perdono dei peccati ti restituisce la pace e la divina amicizia ma le radici del male sono molto profonde e cercano di riprodursi rioccupando il terreno perduto come le erbe infestanti le cattive abitudini che hai contratto non si dissolvono da un giorno all'altro ma hanno bisogno di una quotidiana disciplina per venire eliminate noi abbiamo illustrato questo comportamento spirituale in tante trasmissioni specialmente quelle che riguardano i padri del deserto vi ricordate la lotta fra il bene e il male fra il vicio e la virtù diventa sempre più dura man mano che si va avanti e perché appunto queste radici del male hanno ramificato parecchio specialmente se dietro abbiamo una vita di tanti peccati e data parte sappiamo come ci ha detto che il demonio cacciato dal cuore va in cerca di rinforzi per ritornare vincitore e non potresti resistere all'offensiva dell'impero delle tenebre se Gesù non ti tenesse sotto la sua protezione e non ti aiutasse con la sua grazia con delicatezza e fermezza Gesù medica le tue ferite viene in soccorso delle tue debolezze e con l'aiuto della tua buona volontà purifica il tuo cuore rendendolo puro e capace di amare quindi questo è tutto il processo di purificazione della vista degli occhi e della purificazione delle radici del male nel cuore non potrei arrivare ad avere occhi limpidi e un cuore puro quindi caro amico se non attraverso un cammino di purificazione che è doloroso ma che Gesù addolcisce con la sua presenza piena di amore nel medesimo tempo Gesù rafforza la tua volontà che è indebolita dal peccato ha sperimentato quanto abbia ragione il maestro quando dice che chi commette il peccato diventa schiavo del peccato diludevi di essere libero perché facevi quello che volevi in realtà eri diventato schiavo delle passioni fino ad essere incapace di decidere diversamente cioè il male anche il male più grave può diventare una dipendenza quotidiana poveri noi il tuo libro arbitrio appunto di quando eri nel peccato ridotto a uno stato comatuoso dei peccati con la confessione e la conversione ha ricominciato a prendere vigore sostenuto dalla grazia con la quale hai potuto decidere di aprire il cuore e di avvicinarti a Gesù quindi cari amici c'è il problema della purificazione dello sguardo c'è vedere le cose nella luce di Dio che si acquista pian piano c'è il problema cari amici della purificazione del cuore del quale sono gli amici del male e c'è il problema del rafforzamento del libero arbitrio c'è la libera volontà che col peccato si è indebolita e questo lo puoi ottenere praticando il bene cioè praticando il bene man mano il libero arbitrio diventa sempre più forte è per quello che la Madonna ci invita al digiuno perché attraverso questa rinuncia ci fortifichiamo nella lotta contro il peccato allora cari amici tuttavia la tua volontà è ancora molto fragile mentre la carne il mondo il maligno scatenano la loro controoffensiva saresti travolto della bufera se non ti aggrappassi a Gesù con tutte le tue forze la tua volontà resa schiava dal peccato ha bisogno di una lunga applicazione per acquistare la libertà di decidere e di perseverare fino alla fine quindi il cammino di santità come vedete è un cammino molto lungo è un po' come nel campo delle guarigioni delle malattie o nel campo delle conquiste nello sport nell'atletica eccetera cioè c'è tutta una disciplina che però noi magari la applichiamo nelle cose materiali ma in cose spirituali ci lasciamo trascinare dei vizi che cari amici ci rende molto infelici senza la grazia caro amico non andresti lontano di cui l'importanza della preghiera quotidiana perché solo Gesù nella preghiera può infondere la forza nella tua debolezza e fare di te una fortezza inespugnabile magari ci fossero queste fortezze inespugnabili persone inespugnabili il male grazie a loro non prevale non cedere allo scoraggiamento e non guardare indietro come se il passato fosse una situazione desiderabile richiama la cipolla in Egitto richiama la memoria la tristezza d'una vita di peccato con l'inquietudine l'angoscia la disperazione che portavi nel cuore cioè quando il diavolo ti presenta la tentazione che è un male colorato di bene la tentazione è sempre una suggestione un'idea qualcosa che di satana ti applica alla mente e con la quale cerca di attirarti tu magari questa tentazione sei già caduto tante volte in questa tentazione quando lì nel peccato tu pensa a come ti sei trovato dopo che hai seguito la tentazione dopo che hai seguito la tentazione hai fatto il mal ti sei trovato in una situazione di grande disagio di abbattimento e di disprezzo di te stesso allora questo ti aiuterà molto a dire al diavolo mangia la tua minestra piuttosto salto dalla finestra che mangiarla quindi cari amici richiama la memoria la tristezza di una vita di peccato con l'inquietudine e l'angoscia e la disperazione che portavi nel cuore dal profondo dell'abisso non hai forse invocato il Signore perché ti venissi a liberare quindi come quando Dio è venuto a tirarti fuori dalla palude e adesso che Sadamo ributtarti dentro ti invoca la sua presenza invoca la sua grazia non eri forse nooseato della vita misurabile che conducevi guarda dunque avanti cari amici sempre dobbiamo farlo quando arrivano le tentazioni distogliere l'occhio dalla tentazione impedire che ingrossi nella nostra mente che diventi un pensiero fisso guardare agli occhi avanti verso il cammino spirituale guarda dunque avanti e lascia che Gesù curi le tue ferite e faccia di te una persona nuova capace di portare la speranza nelle tenebre del mondo è così cari amici che diventiamo nel combattimento spirituale quotidiano di veri e propri apostoli di Maria con la quale la Madonna strappa le anime al principe di questo mondo